Capitolo 16 L'estetica del caso Il poeta del caso Era un pomeriggio malinconico quando usai i vecchi libri nella biblioteca di Benoit Mandelbrot. Era una giornata torrida dell'agosto 2005 e il caldo esasperava l'odore stantio della colla dei vecchi libri francesi, risvegliando una forte nostalgia olfattiva. Di solito riesco a reprimere queste divagazioni nostalgiche, tranne quando mi colgono in sorpresa, sotto forma di musica o odori. L'odore dei libri di Mandelbrot era l'odore della letteratura francese, della biblioteca dei miei genitori, delle ore passate nelle librerie e nelle biblioteche quando ero ragazzo, quando molti libri attorno a me erano, purtroppo, in francese, quando pensavo che la letteratura fosse al di sopra di tutti e di tutto. Non ho più avuto molti contatti con i libri francesi da quando ero giovane. Per quanto desiderassi che fosse astratta, la letteratura aveva una sua fisicità, aveva un odore, ed era proprio quello. Il pomeriggio era deprimente anche perché Mandelbrot si stava trasferendo, proprio quando aveva ottenuto il diritto di chiamarlo alle ore più impensabili per porgli una domanda, per esempio perché la gente non capisce che la regola dell'80-20 potrebbe essere del 50-01. Mandelbrot aveva deciso di trasferirsi vicino a Boston, non per andare in pensione, ma per lavorare in un centro di ricerca sponsorizzato da un laboratorio nazionale. Siccome avrebbe traslocato in un appartamento a Cambridge, lasciando la sua enorme casa nella contea di Westchester, alla periferia di New York, mi aveva invitato ad andare a scegliermi qualcuno dei suoi libri. Perfino i titoli dei volumi avevano un suono nostalgico. Riempì uno scatolone di libri francesi, tra cui una copia del 1949 di Matière Memoir, di Henry Bergson, che a quanto pare Mandelbrot acquistò quando era studente. Che odore! Dopo averlo citato varie volte all'interno di questo libro, finalmente vi presento Mandelbrot. E voglio presentarvelo innanzitutto come la prima persona con un titolo accademico, con la quale abbia parlato di casualità senza sentirmi truffato. Altri matematici delle probabilità mi avevano sbattuto in faccia a teorie dai nomi russi, come Sobolev, Kolmogorov, Misura di Wiener, senza le quali erano perduti. Facevano fatica a entrare nel vivo dell'argomento, a uscire dagli schemi, allontanandosi abbastanza da considerarne i difetti empirici. Con Mandelbrot fu tutto diverso. Era come se fossimo nati entrambi nello stesso paese. Ci fossimo ritrovati dopo anni di esilio frustrante e fossimo finalmente in grado di parlare la stessa lingua senza alcuno sforzo. Mandelbrot è l'unico insegnante in carne e ossa che abbia mai avuto. I miei insegnanti di solito sono i libri della mia biblioteca. Avevo troppo poco rispetto per i matematici che si occupavano dell'incertezza e della statistica per considerarli i miei insegnanti. Per come la vedevo io, i matematici, istruiti per le certezze, non avevano nulla a che fare con il caso. Mandelbrot mi dimostrò che avevo torto. Parla un francese eccezionalmente preciso e formale, molto simile a quello parlato dai levantini nella generazione dei miei genitori o dagli aristocratici del vecchio mondo. Per questo, quando capitava, era strano sentire il suo inglese americano, molto standard, colloquiale e dal forte accento. È alto, sovrappeso, il che gli conferisce un viso da bambino, anche se non l'ho mai visto mangiare un pasto abbondante, e ha una forte presenza fisica. Dall'esterno qualcuno potrebbe pensare che io e Mandelbrot abbiamo in comune l'incertezza sfrenata, i cegni neri e qualche noiosa, e talvolta meno noiosa, nozione statistica. Ma, anche se collaboriamo, non è questo il nostro principale argomento di conversazione. Per lo più parliamo di letteratura ed estetica, o ci scambiamo pettegolezzi storici su persone di straordinaria raffinatezza intellettuale. Raffinatezza? Non successo. Mandelbrot potrebbe raccontarmi parecchie storie sulla fenomenale schiera di personaggi importanti e in gamba con i quali ha lavorato nel secolo scorso, ma io sono programmato per considerare la personalità degli scienziati molto meno interessante di quella di pittoreschi e eruditi. Come me Mandelbrot ha un interesse per gli individui garbati, che combinano tratti solitamente non coesistenti. Una persona che nomina spesso il barone Pierre-Jean de Ménage, che conobbe negli anni 50 a Priston, dove de Ménage era compagno a distanza del fisico Oppenheimer. De Ménage era esattamente il tipo di persona che mi interessa, l'incarnazione di un cigno nero. Veniva da un'opulenta famiglia di mercanti ebrei di Alessandria, che parlavano francese e italiano, come molti levantini sofisticati. I suoi avi avevano adottato una grafia veneta, per il cognome arabo. Ci avevano aggiunto, strada facendo, un titolo nobiliare ungherese, e avevano socializzato con i reali. Non solo de Ménage si convertì al cristianesimo, ma divenne monaco domenicano, nonché grande studioso di lingue semitiche e persiane. Mandelbrot continuava a farmi domande su Alessandria, perché era sempre alla ricerca di personaggi del genere. Personaggi veri, intellettualmente sofisticati, erano esattamente ciò che cercavo nella vita. Mio padre, dotto e sapiente, che se fosse ancora vivo avrebbe solo due settimane in più di Benoit Mandelbrot, amava la compagnia dei preti gesuiti estremamente colti. Ricordo che qualcuno di questi ospiti si sedeva al mio posto a tavola. Ricordo che uno di loro era laureato in medicina, e aveva fatto il dottorato in fisica. Eppure insegnava l'aramaico alla gente del posto, all'istituto di lingue orientali di Beirut. La sua occupazione precedente poteva restare in un liceo, a insegnare fisica, e quella prima ancora in una scuola di medicina. Una simile erudizione impressionava mio padre molto più del lavoro a catena di montaggio dei scienziati. Devo avere qualcosa, nei geni, che mi allontana dai Bildungsvieresters. Sebbene Mandelbrot rimanesse spesso stupito di fronte al temperamento di eruditi ambiziosi di successo, e di scienziati notevoli, ma non troppo famosi, quali il suo vecchio amico Carlton Gashdusek, un uomo che lo impressionò per la sua capacità di svelare le cause delle malattie tropicali, non sembrava molto desideroso di strombazzare i suoi legami con coloro che consideriamo grandi scienziati. Mi ci vuole un po' per scoprire che aveva lavorato con una straordinaria lista di studiosi, quasi in ogni campo, cosa che qualcuno a cui piace far sfoggiare i grossi nomi avrebbe ripetuto in continuazione. Benché ormai collabori con lui da qualche anno, soltanto l'altro giorno, mentre cacchieravo con sua moglie, ho scoperto che per due anni è stato collaboratore matematico dello psicologo Jean Piaget. Ho provato un altro shock quando ho scoperto che aveva lavorato anche con il grande storico Fernand Braudel, ma Mandelbrot non sembrava interessato a Braudel. E non gli interessava nemmeno parlare di John von Neumann, con il quale aveva lavorato negli anni post-dottorato. La sua scala era inversa. Una volta gli chiesi di Charles Tresser, un fisico sconosciuto che aveva incontrato una volta a una festa, che aveva scritto alcuni articoli sulle teorie del caos e che arrotondava lo stipendio da ricercatore preparando pasticcini per un negozio che gestiva vicino a New York. Mandelbrot fu categorico. Un homme extraordinaire, disse. Ma quando gli chiesi di un certo pezzo grosso, molto famoso, lui mi rispose È il classico bon élèvre, uno studente che prende buoni voti, ma senza spessore e privo di fantasia. Il pezzo grosso in questione aveva vinto il premio Nobel. La platonicità dei triangoli. Allora perché chiamo questa cosa casualità di Mandelbrot? O frattale. Ogni pezzettino del puzzle è stato menzionato in precedenza da qualcun altro. Pareto, Yule, Zipf. Ed è stato Mandelbrot che A. Ha collegato i puntini fra loro. B. Ha associato la casualità alla geometria. A un ramo specifico della geometria. C. Ha tratto le conclusioni naturali. In effetti, molti matematici oggi sono famosi in parte perché lui ha scovato i loro lavori e li ha usati per sostenere le sue affermazioni. La stessa strategia che sto usando io in questo libro. Ho dovuto inventarmi dei predecessori così la gente mi prende sul serio. Ne ha detto una volta. E ha usato la credibilità dei pezzi grossi come strumento retorico. Possiamo quasi sempre scovare predecessori per qualche pensiero. Possiamo sempre trovare qualcuno che abbia lavorato alla nostra stessa tesi e usare il suo contributo per avallarla. Il riconoscimento scientifico per una grande idea il marchio depositato va a chi unisce i puntini. Non a chi fa un'osservazione casuale. Perfino Charles Darwin che secondo i scienziati ignoranti ha inventato il concetto di sopravvivenza del più forte non fu il primo a parlarne. Nell'introduzione all'origine delle specie scrisse che i fatti da lui presentati non erano necessariamente originali. Erano le conseguenze che, a suo parere, erano interessanti. Affermò con la caratteristica modestia vittoriana. Alla fine, sono quelli che traggono le conseguenze e colgono l'importanza delle idee vedendogli il valore reale a vincere la partita. Sono loro che possono parlare di un determinato argomento. Lasciate che vi spieghi la geometria di Mandelbrot. La geometria della natura I triangoli quadrati e gli altri concetti geometrici che hanno fatto sbadigliare molti di noi sui banchi di scuola possono essere nozioni bellissime pure ma sembrano più presenti nei elementi di architetti, designer e professori o negli edifici moderni che noi in natura. Poco male se non fosse che la maggior parte di noi non è accorrente. Le montagne non sono triangoli né piramidi gli alberi non sono cerchi le linee rette non si vedono quasi mai da nessuna parte. Mandelbrot non ha seguito il corso di geometria al liceo e non ha letto i libri di Euclide di Alessandria. La sua è una geometria frastagliata ma con una logica ben precisa e anche piuttosto semplice da capire. Come ho già detto sembriamo naturalmente propensi a patronizzare e a pensare esclusivamente in termini di materiale studiato. Nessuno dal muratore al filosofo riesce a sfuggire a questo condizionamento. Il grande Galileo per il resto smascheratore di falsità scrisse La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conosce i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche. Ma Galileo era cieco perfino il grande Galileo con tutta la sua presunta indipendenza mentale non fu in grado di guardare come si deve a madre natura. Immagino che in casa avesse delle finestre e che ogni tanto si avventurasse fuori. Avrebbe dovuto sapere che i triangoli non si trovano tanto facilmente in natura. Ci lasciamo influenzare troppo o siamo ciechi o siamo ignoranti oppure siamo tutte e due le cose. È ovvio che la geometria della natura non è la geometria con l'idea eppure nessuno, quasi nessuno, se n'è accorto. Questa cecità fisica è identica alla fallace ludica che ci fa credere che i casino rappresentino la casualità. Frattalità Cominciamo con la descrizione dei frattali poi spiegheremo in che modo sono collegati a quelle che chiamiamo leggi della potenza o leggi scalabili. Frattale è un termine cognato da Mandelbrot per descrivere la geometria di ciò che è irregolare e rotto dal latino fractus. La frattalità è la ripetizione di modelli geometrici su scale diverse in versioni sempre più piccole ogni piccola parte assomiglia all'intero. In questo capitolo cercherò di dimostrare in che modo i frattali siano applicabili al campo dell'incertezza che dovrebbe portare il nome di Mandelbrot cioè casualità mandelbrottiana. Le venature delle foglie sembrano rami i rami sembrano alberi i sassi sembrano piccole montagne non c'è un cambiamento qualitativo quando un oggetto cambia dimensione. Se guardate la costa della Gran Bretagna da un aereo noterete che assomiglia a ciò che vedreste guardandola con una lente di ingrandimento. Questo carattere di autoaffinità implica che una regola di iterazione apparentemente breve e semplice può essere usata da un computer o, in modo più casuale, da madre natura per creare forme che appaiono molto complesse. Può essere utile per la grafica computerizzata ma soprattutto è il modo in cui funziona la natura. Mandelbrot elaborò il cosiddetto insieme di Mandelbrot l'oggetto più famoso della storia della matematica. Divenne celebre tra i fautori della teoria del caos in quanto genera immagini di complessità sempre maggiore usando una regola ricorsiva apparentemente minuscola. Ricorsivo significa che qualcosa può essere riapplicato a se stesso infinite volte. È possibile guardare l'insieme di Mandelbrot come una risoluzione sempre più definita senza mai raggiungere il limite e continuando quindi a vedere forme riconoscibili. Le forme, pur non essendo identiche, hanno una certa affinità tra loro, un'area di famiglia. Questi oggetti hanno un ruolo estetico. Considerate le seguenti applicazioni. Arti visive. La maggior parte degli oggetti generati dal computer si basa oggi su qualche versione del frattale di Mandelbrot. Si possono vedere frattali anche in architettura, in pittura e in altri lavori artistici, ovviamente non incorporati consapevolmente dall'autore. Musica. Provate a fischiettare le quattro note d'apertura della Quinta Sinfonia di Beethoven. Ta-ta-ta-ta. Poi sostituite ogni nota con le stesse quattro note d'apertura in modo da ottenere una battuta di 16 note. Vedrete, o meglio sentirete, che ogni piccolo gruppo di note assomiglia al gruppo originale di quattro note. Bach e Mahler, per esempio, scrissero sotto movimenti che somigliano ai movimenti più grandi di cui fanno parte. Poesia. La poesia di Emily Dickinson, per esempio, è frattale. Il grande assomiglia al piccolo. Secondo un esperto, è caratterizzata da un insieme consapevolmente creato di parole, versi, retorica, gesti e toni. I frattali all'inizio fecero Benoit Mandelbrot una sorta di paria nell'establishment matematico. I matematici francesi si scandalizzarono. Che cosa? Immagini? Mon Dieu! Peggio che mostrare un videoporno a un raduno di pieno nino ortodosse nel paesino dei miei avi, Amun. E così Mandelbrot, da profugo intellettuale, passò un bel po' di tempo in un centro di ricerca dell'IBM, nello stato di New York. Era una situazione in cui gli lasciavano fare tutto quello che voleva. Ma il pubblico generico, per lo più i fanatici di computer, aveva capito. Il libro di Mandelbrot, La geometria frattale della natura, fu una vera bomba quando fu pubblicato, 25 anni fa. Si diffuse tra i circoli artistici e portò a diversi studi sull'estetica, sul design architettonico e perfino sulle applicazioni industriali. A Benoit Mandelbrot venne addirittura offerto un posto come professore in medicina. A quanto pari, i polmoni sono autosimili. Le sue conferenze erano prese d'assalto da vari generi di artisti e lui si guadagnò la fama di rock star della matematica. L'avvento dei computer lo aiutò a diventare uno dei matematici più influenti della storia, in termini di applicazioni del suo lavoro, molto prima che venisse accettato l'ordinatore d'avorio. Vedremo che, oltre all'università, il suo lavoro ha una caratteristica insolita e estremamente semplice da capire. Un paio di notizie biografiche. Mandelbrot si trasferì in Francia da Varsavia nel 1936, quando aveva 12 anni, avendo dovuto condurre una vita clandestina durante gli anni dell'occupazione nazista, riuscì a evitare la formazione gallica tradizionale con i suoi insipidi esercizi algebrici, diventando per lo più autodidatta. Più avanti fu profondamente influenzato da suo zio Zolem, membro di spicco dell'Instablishment matematico francese e titolare di una cattedra al Collège de France. Mandelbrot si trasferì poi negli Stati Uniti, lavorando per la maggior parte della sua vita come scienziato industriale, con vari incarichi accademici temporanei. I computer avevano due ruoli importanti nella nuova scienza che Mandelbrot ha contribuito a elaborare. Primo, gli oggetti frattali, come abbiamo visto, si possono generare con una semplice regola applicata a se stessa, il che li rende ideali per l'attività automatica di un calcolatore o di madre natura. In secondo luogo, nella generazione di intuizioni visive, vi è una dialettica fra il matematico e gli oggetti generati. E ora vediamo in che modo tutto questo ci porta alla casualità. in effetti è con la probabilità che Mandelbrot ha iniziato la sua carriera. Mediocristan e Stremistan un approccio visivo. Sto osservando il tappetino del mio studio. Se lo esamino al microscopio vedo una superficie molto irregolare. Se lo guardo con una lente di ingrandimento, la superficie sarà più liscia, ma comunque molto irregolare. Ma se lo guardo stando in piedi, mi apparirà uniforme, liscio e piatto quasi come un foglio di carta. Il tappetino visto dall'alto corrisponde al Mediocristan e alla legge dei grandi numeri. Vediamo la somma delle ondulazioni e queste si appianano. È come la casualità gaussiana. Il motivo per cui la mia tazza di caffè non salta è che la somma di tutte le sue particelle che si muovono diventa piatta. Allo stesso modo si raggiungono certezze sommando piccole incertezze gaussiane e la legge dei grandi numeri. La gaussiana non è autosimile ed è per questo che la mia tazza di caffè non salta sulla scrivania. Ora considerate una gita in montagna. Per quanto in alto possiate salire la terra sotto di voi resterà frastagliata anche a 9000 metri d'altitudine. Quando sorvolate le Alpi sotto di voi vedete montagne frastagliate al posto di piccoli sassi. Allora alcune superfici non appartengono al Mediocristan e anche se la risoluzione cambia non diventano più piatte. L'effetto sparisce solo quando si raggiungono altitudini estreme. Se osservato dallo spazio il nostro pianeta sembra molto piatto e liscio ma soltanto perché è molto piccolo. Se fosse più grande avrebbe montagne che sovrastano l'Himalaya e apparirebbe liscio come se osservato da una distanza maggiore. Analogamente se il pianeta avesse una popolazione più numerosa pur mantenendo la medesima ricchezza media sarebbe probabile incontrare qualcuno il cui reddito netto superi di gran lungo quello di Bill Gates. Torniamo alla discussione sulla costa della Gran Bretagna. Guardandola da un aereo i suoi contorni non sono molto diversi da quelli che si vedrebbero dalla spiaggia. Il cambiamento di scala non è altra alle forme né il livello di irregolarità. Perle e porci Che cosa c'entra la geometria dei frattali con la distribuzione della ricchezza la dimensione delle città gli utili del mercato finanziario il numero di vittime in una guerra o la dimensione dei pianeti? Uniamo ai puntini. Il concetto fondamentale è che i frattali hanno misure numeriche o statistiche che restano in qualche modo costanti su scale diverse. Il rapporto è lo stesso a differenza di quanto accade con la gaussiana. Anche la figura 13 rappresenta graficamente questa autoaffinità. Come abbiamo visto nel capitolo 15 i super ricchi sono molto simili ai ricchi tranne che sono più ricchi. La ricchezza è indipendente dalla scala o più precisamente la sua dipendenza dalla scala non è nota. Nei anni 60 Manderbilt presentò all'establishment economico le sue idee sui prodotti all'ingrosso per categorie di prodotti e sui prezzi dei titoli finanziari e gli economisti si entusiasmarono. Nel 1963 l'allora rettore della Chicago Graduate School of Business George Shultz gli offrì una cattedra. Era lo stesso George Shultz che poi divenne segretario di Stato di Ronald Reagan. Shultz lo chiamava una sera per ritirare l'offerta. Mentre sto scrivendo non è successo niente in economia e nella statistica delle scienze sociali tranne una manipolazione di facciata che tratta il mondo come se fossimo soggetti alla casualità blanda eppure ne sono stati distribuiti di premi Nobel. Qualcuno che non coglie la tesi centrale di questo libro ha scritto qualche articolo per dimostrare che Manderbilt aveva torto. È sempre possibile produrre dati a conferma del fatto che il processo di fondo è gaussiano trovando periodi che hanno eventi rari proprio come è possibile trovare un pomeriggio in cui sono stati commessi omicili e usarlo come prova di un comportamento onesto. Ribadisco per via della simmetria dell'induzione così come è più semplice confutare l'innocenza che accertarla è più semplice rifiutare una curva campana che accettarla al contrario è più difficile rifiutare un frattale che accettarlo perché? Perché un singolo evento può distruggere la tesi secondo la quale ci troviamo di fronte a una curva gaussiana. Concludendo 40 anni fa Manderbilt elogi perle agli economisti e ai filistei occupati a costruirsi un bel curriculum perle che furono rifiutate perché erano idee troppo buone per loro erano margaritas anteporkos perle ai porci nel resto di questo capitolo pregherò in che modo posso sostenere che i frattali di Manderbilt siano una rappresentazione di gran parte della casualità senza necessariamente accettarne l'uso preciso. I frattali dovrebbero essere la forma di base l'approssimazione la struttura non risolvono il problema del cigno nero e non trasformano tutti i cigni neri in eventi prevedibili però attenuano significativamente il problema rendendo concepibili eventi così grandi gli rendono dei cigni grigi perché grigi? perché solo la gaussiana ci dà certezze ne parleremo più avanti. La logica della casualità frattale con un avvertimento nelle liste della ricchezza del capitolo 15 ho mostrato la logica di una distribuzione frattale se la ricchezza raddoppia da un milione a due milioni l'incidenza delle persone che hanno almeno quella quantità di denaro si riduce di quattro volte cioè due con l'esponente due se l'esponente fosse uno l'incidenza si ridurrebbe di due volte l'esponente si chiama anche potenza per questo qualcuno parla di legge della potenza chiamiamo eccedenza il numero di occorrenze superiore a un certo livello un'eccedenza di due milioni è il numero di persone la cui ricchezza supera due milioni una delle principali proprietà dei frattali o un altro modo per esprimere la loro principale caratteristica cioè la scalabilità è che il rapporto fra due eccedenze sarà il rapporto fra i due numeri elevato alla potenza negativa dell'esponente tabella 2 ipotesi di esponenti per i vari fenomeni fenomeno e ipotesi di esponente approssimazione vaga frequenza d'uso delle parole 1,2 numero di visite a un sito web 1,4 numero dei libri venduti negli Stati Uniti 1,5 telefonate ricevute 1,22 magnitudine dei terremoti 2,8 diametro dei caratteri della luna 2,14 intensità delle guerre 0,8 intensità del berlinamento solare 0,8 rendito netto degli americani 1,1 numero di persone per cognome 1 popolazione delle città americane 1,3 movimenti di mercato 3 o più basso dimensioni delle aziende 1,5 persone uccise in attacchi terroristici 2 ma l'esponente potrebbe essere più basso fonte M.E.J. Newman 2005 e calcoli dell'autore lasciate che vi spieghi la tabella ammettiamo che voi pensiate che soltanto 96 libri all'anno venderanno più di 250.000 copie come è successo l'anno scorso e che pensiate che l'esponente sia di circa 1,5 di qui potete stimare che circa 34 libri venderanno più di 500.000 copie semplicemente 96 volte 500.000 diviso 250.000 elevato a meno 1,5 possiamo continuare a dire che circa 8 libri dovrebbero vendere più di 1 milione di copie 96 volte 1 milione diviso 250.000 elevato a meno 1,5 voglio spiegarvi diversi esponenti misurati per i vari fenomeni per cominciare sottolineo che questi esponenti significano ben poco in termini di precisione numerica vedremo perché fra un momento ma per ora tenete presente che non osserviamo questi parametri semplicemente li indoviniamo li deduciamo da informazioni statistiche il che rende difficile a volte conoscere i parametri reali ammesso che esistano davvero esaminiamo per prima cosa le conseguenze pratiche di un esponente tabella 3 il significato dell'esponente quota del primo 1% quota del primo 20% esponente 1 99,99 99,99 1,1 66 86 86 1,1 66 86 1,2 47 76 1,3 34 69 1,4 27 63 1,5 22 58 2 10 45 95% 2,5 6 38 3 4,6 34 34 la tabella 3 illustra l'impatto dell'altamente improbabile mostrando i contributi al totale del primo 1% e del primo 20% più basso l'esponente e più alto il contributo ma osservate quanto è sensibile il processo tra 1,1 e 1,3 si passa dal 66% del totale al 34% una minima differenza di 0,2 dell'esponente cambia il risultato in modo drastico e tale differenza può derivare da un semplice errore di misurazione non è una differenza insignificante considerate che non abbiamo un'idea precisa di quale sia l'esponente perché non lo possiamo misurare direttamente ci limitiamo dunque a fare delle stime partendo dai dati passati o basandoci su teorie che ci consentono di costruire un modello in grado di darci un idea ma questi modelli possono avere debolezze nascoste che ci impediscono di applicare ricercamente alla realtà quello che dovete tenere a mente è che l'esponente 1,5 è approssimativo che è difficile da calcolare che non piove dal cielo almeno non facilmente e che l'errore di campionatura è mostruoso il numero di libri che vendono più di un milione di copie non sarà sempre 8 potrebbe arrivare a 20 o scendere a 2 inoltre questo esponente inizia ad avere effetto partendo da un numero detto di crossover ed è poi applicabile a numeri più grandi per esempio il numero di partenza può essere 200 mila libri o anche 400 mila libri allo stesso modo le proprietà della ricchezza di sopra di diciamo 600 milioni di dollari quando la disegualianza aumenta sono diverse dalle proprietà che tali di ricchezza ha al di sotto di questa cifra come facciamo a stabilire il punto di crossover? è un problema io e i miei colleghi abbiamo lavorato con circa 200 milioni di dati finanziari avevamo tutti gli stessi gruppi di dati eppure non siamo mai stati d'accordo sul quale fosse esattamente l'esponente sapevamo che i dati indicavano una legge della potenza frattale ma abbiamo imparato che non è possibile produrre un numero preciso quello che sapevamo cioè che la distribuzione scalabile frattale è stato sufficiente per farci prendere alcune decisioni il problema del limite è superiore alcuni hanno studiato e accettato i frattali fino a un certo punto sostengono che la ricchezza le vendite di libri e gli utili di mercato raggiungono a un certo punto un livello in cui smettono di essere frattali queste persone propongono un troncamento sono d'accordo sul fatto che esista un livello al quale la frattalità potrebbe fermarsi ma dove? dire che c'è un limite superiore ma non sapere qual è e dire che non c'è alcun limite comporta in pratica le stesse conseguenze proporre un limite superiore può essere rischioso qualcuno potrebbe dire nelle nostre analisi imponiamo un limite massimo alla ricchezza pari a 150 miliardi di dollari e qualcun altro potrebbe rispondere perché non 151 miliardi di dollari o 152 miliardi di dollari tanto vale considerare la variabile illimitata fate attenzione alla precisione nell'esperienza mi ha insegnato un paio di cosette qualunque esponente si cerchi di misurare sarà probabilmente sovrastimato ricordate che un esponente più alto implica un ruolo più piccolo per le grandi deviazioni quello che vedete è probabilmente meno cigno nero di quello che non vedete io lo chiamo problema della mascherata supponiamo che io generi un processo con esponente pari a 1,7 voi non vedete cosa c'è dentro il motore vedete solo i dati che escono se vi chiedo qual è l'esponente con molta probabilità calcolerete un numero che si agire intorno a 2,4 il risultato sarebbe questo anche se aveste un milione di dati perché ci vuole molto tempo affinché un processo frattale riveli le sue proprietà e qui la gravità dello shock viene sottovalutata a volte il frattale può farci credere di essere gaussiano specialmente quando il punto di crossover inizia da un numero alto con le distribuzioni frattali le deviazioni estreme sono così rare da confonderci non riconosciamo la distribuzione come frattale la pozzanga è rivisitata come abbiamo visto è problematico conoscere i parametri dei modelli che si suppone governino nel mondo anche in Estremistan si ripresenta il problema della riduzione e questa volta in modo ancora più significativo che in altre parti del libro semplicemente se un meccanismo è frattale può generare valori grandi di conseguenza l'incidenza di grandi deviazioni è possibile ma quanto possibile sia e quanto spesso si verifichi sono dati difficili da conoscere con precisione sembra il problema della pozzanghera potrebbero averla generata diversi pezzi di ghiaccio andando dalla realtà ai possibili modelli esplicativi ci si trova ad affrontare una serie di problemi totalmente diversa da quella che si incontra facendo il percorso opposto ho appena letto tre libri di divulgazione scientifica che riassumano la ricerca sui sistemi complessi Ubiquità di Mark Buchanan Massa critica di Philip Ball e Why Most Things Fail di Paul Hormeroth i tre autori descrivono il mondo delle scienze sociali come pieno di leggi della potenza una visione sulla quale sono pienamente d'accordo affermano altresì che molti di questi fenomeni sono caratterizzati da universalità che avviano straordinarie similarità tra i vari processi della natura e il comportamento dei gruppi sociali cosa sulla quale concordo supportano i loro studi con le teorie delle reti e dimostrano la meravigliosa corrispondenza tra i cosiddetti fenomeni critici nelle scienze sociali e l'auto-organizzazione dei gruppi sociali mettono insieme i processi che generano le valanghe i contagi sociali e quelli che chiamano cascate informative e anche su questo sono d'accordo l'universalità è uno dei motivi per cui i fisici trovano particolarmente interessanti le leggi della potenza associate ai punti critici ci sono numerose situazioni sia nella teoria dei sistemi dinamici sia nella meccanica statistica in cui molte delle proprietà delle dinamiche che riguardano i punti critici sono indipendenti dai dettagli del sistema dinamico sottostante l'esponente del punto critico potrebbe essere lo stesso per molti sistemi all'interno dello stesso gruppo anche se molti altri aspetti del sistema sono diversi sono quasi d'accordo con questa nozione di universalità infine tutti e tre gli autori ci incoraggiano ad applicare le tecniche della fisica statistica evitando come la pesta e l'econometria e le distribuzioni causane non scalabili cosa sulla quale non potrei essere più d'accordo però producendo o promuovendo la precisione tutti e tre gli autori cadono nella trappola di non distinguere tra un processo in avanti e un processo all'indietro tra il problema e il problema inverso e secondo me questo è il più grande peccato scientifico ed epistemologico non sono gli unici quasi tutti coloro che lavorano con i dati ma non prendono decisioni sulla base di tali dati tendono a macchiarsi dello stesso peccato che è una variante della fallaccia narrativa in mancanza di un processo di feedback si guardano i modelli e si pensa che confermino la realtà io credo nelle idee di quei tre libri ma non nel modo in cui vengono usate e di certo e non di certo con la precisione attribuita loro dagli autori in effetti la teoria della complessità dovrebbe renderci più sospettosi nei confronti di affermazioni scientifiche circa modelli precisi di realtà non trasforma tutti i cigni in cigni bianchi li rende grigi e solo grigi come ho detto il mondo dal punto di vista epistemologico è un posto diverso per un empirista bottonato non possiamo permetterci il lusso di stare seduti a leggere le equazioni che governano l'universo ci limitiamo a osservare i dati a fare un'ipotesi sul processo reale a calibrare sistemando la nostra equazione a seconda delle informazioni aggiuntive via via che gli elementi si verificano confrontiamo ciò che vediamo con ciò che ci aspettiamo di vedere di solito è mortificante specie perché è consapevole della fallaccia narrativa scoprire che la storia va in avanti e non all'indietro per quanto si possa credere che gli uomini d'affari abbiano un io forte spesso sono costretti a ridimensionarsi ripensando le differenze tra le decisioni e i risultati tra i modelli precisi e la realtà mi riferisco all'opacità all'incompletenza delle informazioni all'invisibilità del generatore del mondo la storia non ci apre la sua mente dobbiamo essere noi e individuare cosa c'è dentro dalla rappresentazione alla realtà l'idea appena esposta collega tutte le parti di questo libro mentre molti studiano la psicologia la matematica o la teoria dell'evoluzione e cercano il modo di portarle in banca applicandola nell'idea e gli affari io suggerisco l'esatto contrario studiare l'intensa inesplorata avvilente incertezza dei mercati per comprendere la natura della casualità che è applicabile alla psicologia alla probabilità alla matematica al teoreo decisionale e perfino alla fisica statistica andando dalla rappresentazione alla realtà noterete subito le manifestazioni della fallaccia narrativa della fallaccia ludica e degli errori della platonicità quando conobbi Mandelbrot ti chiesi come mai uno scienziato del suo calibro che avrebbe dovuto avere cose più importanti da fare nella vita si interessasse di un argomento volgare come la finanza avevo sempre pensato che la finanza e l'economia fossero soltanto un posto in cui apprendere trasferati fenomeni impidici a riempire il conto in banca prima di andarsene a fare qualcosa di meglio la risposta di Mandelbrot fu i dati una miniera d'oro di dati in effetti tutti dimentichiamo che egli iniziò con l'economia prima di passare alla fisica e alla geometria della natura lavorare una quantità così abbondante di dati ci demoralizza ci lascia intuire il nostro errore stiamo percorrendo la strada fra la rappresentazione e la realtà nella direzione sbagliata il problema della circolarità della statistica che possiamo chiamare anche problemi del regresso statistico è il seguente diciamo che ci servono alcuni dati del passato per scoprire se una distribuzione delle probabilità è gaussiana frattale o altro dovremmo stabilire se abbiamo dati sufficienti per supportare la nostra affermazione ma come facciamo a sapere se i dati sono sufficienti con la distribuzione delle probabilità una distribuzione che ci dice se abbiamo abbastanza dati per avere fiducia in ciò che stiamo desumendo se si tratta di una curva a campana di Gauss allora basteranno pochi punti ancora una volta la legge dei grandi numeri e come facciamo a sapere se la distribuzione è gaussiana beh, con i dati quindi ci servono i dati per sapere di che tipo di distribuzione si tratta e ci serve una distribuzione delle probabilità per sapere quanti dati ci servono si viene a creare un grave circolo vizioso questo problema del regresso non si pone se si ipotizza preventivamente che la distribuzione sia gaussiana per qualche ragione la gaussiana svela le superiorità piuttosto facilmente non si può dire lo stesso per la distribuzione dell'estremistan perciò selezionare la gaussiana appellandosi a una qualsiasi legge generale sembra essere conveniente la gaussiana viene usata come distribuzione di default proprio per questo motivo come continuo a ripetere ipotizzarne preventivamente l'applicazione può funzionare solo per pochissimi campi quali la statistica criminale il tasso di mortalità le questioni che appartengono al mediocristan ma non per dati storici degli attributi sconosciuti né per questioni che appartengono all'estremistan ora perché gli statistici che lavorano con i dati storici non sono al corrente di questo problema primo non amano sentirsi dire che il loro mestiere è stato cancellato dal problema dell'induzione secondo non affrontano i risultati delle loro previsioni in modo rigoroso come abbiamo visto con le gare di Macri d'Acliss si basano sulla falla generativa e non vogliono sentirne parlare ancora una volta diffidate di chi fa previsioni portiamo il problema a un livello superiore come ho detto prima sono in voga moltissimi modelli che cercano di spiegare le genesi dell'estremistan in realtà sono raggruppabili in due grandi classi anche se di tanto in tanto ci sono approcci di tipo diverso la prima classe comprende il semplice modello il ricco diventa sempre più ricco o il grande diventa sempre più grande usato per spiegare l'aggruppamento delle persone nelle città il dominio del mercato da parte di Microsoft e VHS invece che di Apple e Betamax le dinamiche della reputazione accademica e così via la seconda classe riguarda invece quelli che generalmente vengono chiamati modelli di percolazione che si rivolgono non tanto al comportamento dell'individuo quanto piuttosto al terreno su cui opera quando si versa dell'acqua su una superficie porosa la struttura della superficie conta più del liquido quando un granello di sabbia cade su un cumulo di altri granelli di sabbia in modo in cui è organizzato il terreno determinerà se ci sarà o meno una valanga la maggior parte dei modelli ovviamente cerca di essere previsionale non solo descrittiva la trovo una cosa davvero irritante i modelli sono strumenti eleganti per illustrare la genesi dell'estremistan ma insisto il generatore della realtà non sembra aderire ai modelli abbastanza da rendere gli strumenti di previsione utili e precisi almeno giudicare da ciò che si trova nell'attuale letteratura sull'estremistan ancora una volta abbiamo a che fare con gravi problemi di terratura quindi sarebbe una buona idea evitare di commettere gli errori comuni che si fanno quando si calibra un processo non lineare hanno un grado maggiore di libertà rispetto a quelli lineari come abbiamo visto nel capitolo 11 il che implica che si corre il grosso rischio di usare il modello sbagliato eppure di tanto in tanto ci si batte in qualche libro o in qualche articolo che sostiene l'applicazione di modelli della fisica statistica alla realtà libri molto belli come quello di Philippe Ball che illustrano e informano ma che non dovrebbero condurre a modelli quantitativi precisi non prendeteli alla lettera vediamo invece che cosa possiamo ricavare da questi modelli ancora una volta una soluzione felice primo ipotizzando una scalabile accetto che un numero arbitrariamente grande sia possibile in altre parole le disuguaglianze non dovrebbero cessare al di sopra di un certo limite massimo conosciuto poniamo che il codice da Vinci abbia venduto 60 milioni di copie la bibbia ne ha vendute quasi un miliardo ma ignoriamo questo dato e limitiamo le nostre analisi a libri laici scritti da singoli autori anche se non abbiamo mai sentito parlare di un libro laico che abbia venduto 200 milioni di copie possiamo considerare che la possibilità non sia zero è bassa ma non è zero ogni tre best seller del genere il codice da Vinci potrebbe esserci un super best seller anche se finora non è successo non possiamo escludere questa ipotesi ogni 15 codici da Vinci ci sarà un super best seller che vende diciamo 500 milioni di copie applichiamo la stessa logica alla ricchezza ammettiamo che la persona più ricca del mondo valga 50 miliardi di dollari esiste una probabilità non trascurabile che l'anno prossimo salti fuori qualcuno con 100 miliardi di dollari o più ogni tre persone che hanno più di 50 miliardi di dollari potrebbe essercene una con 100 miliardi di dollari o più la probabilità che vi sia qualcuno con più di 200 miliardi di dollari è molto più bassa un terzo della probabilità precedente ma comunque non pari a zero esiste addirittura una probabilità minuscola ma non pari a zero che visse qualcuno con più di 500 miliardi di dollari questo significa che possiamo fare deduzioni sulle cose che non vediamo nei nostri dati ma queste cose devono comunque rientrare nell'ambito delle possibilità esiste un best seller invisibile là fuori assente dai dati del passato ma che bisogna comunque tenere in considerazione torniamo a quello che dicevo nel capitolo 13 investire in un libro o in un farmaco può essere più redditizio di quanto suggeriscono le statistiche sui dati passati ma le perdite del mercato azionario possono rivelarsi peggiori di quanto mostrato dal passato le guerre sono frattali per natura un conflitto in cui muoiono più persone di quante ne sono morte durante la seconda guerra mondiale è possibile poco probabile ma comunque con la probabilità non pari a zero sebbene in passato non si sia mai verificato secondo prenderò da natura un'immagine che aiuterà a comprendere meglio il concetto di precisione una montagna assomiglia in qualche modo a un sasso ossia a un'affinità con un sasso una somiglianza familiare ma non è identica la parola che descrive tale somiglianza è autoaffinità non autosimilarità ma Mandelbrot ebbe dei problemi a trasmettere il concetto di affinità e il termine autosimile si diffuse con la connotazione di somiglianza precisa piuttosto che di somiglianza familiare come per la montagna e il sasso la distribuzione della ricchezza al di sopra di un miliardo di dollari non è esattamente uguale a quella al di sotto di un miliardo di dollari ma le due distribuzioni hanno un'affinità terzo prima ho detto che nel mondo dell'economofisica l'applicazione della fisica statistica ai fenomeni sociali ed economici ci sono stati moltissimi studi che miravano a calibrare a estrapolare numeri dal mondo dei fenomeni molti cercano di essere previsionali purtroppo non siamo in grado di prevedere i passaggi che conducono alle crisi o ai contagi il mio amico Didier Sornet cerca di costruire modelli previsionali che io adoro e se non fosse che non posso utilizzarli per fare previsioni ma vi prego non diteglielo potrebbe smettere di costruirli il fatto che non posso usarli come vorrebbe non invalida il suo lavoro rende solo necessaria un'apertura mentale per l'interpretazione a differenza dei modelli dell'economia tradizionale che sono fondamentalmente difettosi si potrebbe fare qualcosa di buono con alcuni fenomeni di Sornet ma non con tutti dov'è il cigno grigio ho scritto un libro intero sul cigno nero non perché sia innamorato del cigno nero come umanista lo detesto e detesto la maggior parte delle ingiustizie e dei danni che provoca per questo mi piacerebbe eliminare molti cigni neri o almeno mitigarne gli effetti e proteggermi da loro la casualità frattale è un modo per ridurre queste sorprese per far sembrare possibili diciamo così alcuni dei cigni per renderci consapevoli delle loro conseguenze per farli diventare grigi ma la casualità frattale non fornisce risposte precise i vantaggi sono i seguenti se sappiamo che il mercato azionario può crollare come accadde nel 1987 un evento simile non è più un cigno nero il crollo del 1987 non è un evento isolato se usiamo un frattale con l'esponente 3 se sappiamo che le aziende di biotecnologie possono produrre un farmaco ad altissimo potenziale più potente di qualsiasi farmaco attualmente in circolazione allora non sarebbe un cigno nero e non ci sorprenderemmo se tale farmaco facesse la sua comparsa i frattali di Mandelbrot ci permettono di tenere in considerazione alcuni cigni neri ma non tutti il primo ha detto che alcuni cigni neri si verificano perché ignoriamo le fonti della casualità altri si verificano quando sopravvalutiamo l'esponente frattale un cigno grigio riguarda eventi estremi modellabili un cigno nero riguarda gli sconosciuti sconosciuti ne ho parlato con il grande uomo e come sempre la cosa è diventata un gioco linguistico nel capitolo 9 ho presentato la distinzione che gli economisti si tracciano tra incertezza cnaitiana incalcolabile e rischio cnaitiano calcolabile tale differenza non può essere un'idea così originale da non comparire nel nostro vocabolario così l'abbiamo cercato in francese Mandelbrot ha citato uno dei suoi amici d'eroi il matematico aristocratico Marcel Paul Schultzenberg un personaggio colto che come il sottoscritto si annoiava facilmente e non poteva lavorare ai problemi oltre il punto di rendimento decrescente Schultzenberg insisteva sulla netta distinzione della lingua francese tra le parole hazard e fortui hazard dall'arabo ad zar implica come alea dato la casualità gestibile fortui è il mio cignoliero il puramente accidentale e imprevisto siamo andati a controllare sul dizionario petit robert e la differenza in effetti esiste fortui sembra corrispondere alla mia opacità epistemica l'un preview e non quantifiable mentre hazard corrisponde più all'incertezza di tipo ludico proposta dal chavalier de mer nelle prime opere sul gioco d'azzardo gli arabi devono aver aggiunto un'altra parola al mondo dell'incertezza rizq che significa proprietà lo ripetisco mandelbrot ha a che fare con i cigni grigi e io ho a che fare con il cigno nero mandelbrot ha domesticato molti dei miei cigni neri ma non tutti non completamente tuttavia con il suo metodo ci mostra un bagliore di speranza un modo per cominciare a pensare ai problemi dell'incertezza siamo molto più al sicuro sapendo dove sono le bestie feroci Grazie 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 Grazie